Un caro saluto a tutti gli amici del Cinema Rondinella, direttamente dai domiciliari, un consiglio per una visione free sul canale YouTube. Ho visto che, tra le altre cose, è disponibile il fascino discreto della borghesia, uno degli ultimi capolavori di un maestro del cinema, Luis Buñuel. Forse un po' dimenticato ultimamente, bene, questa è l'occasione perfetta per recuperare uno dei suoi titoli più dissacanti, ingegnosi, fantasiosi, indimenticabili. È un dei film del mio cuore, lo confesso, non mi stanco mai di vederlo, rivederlo, esserne affascinato, ipnotizzato. E' la storia di un gruppo di borghesi, come peraltro, insomma, dice già ironicamente il titolo, il fascino discreto di questa borghesia, che ha addirittura affari col narcotraffico, ma sempre con quella discrezione che la contraddistingue, è una classe sociale, mentale, forse ancora di più, per Buñuel, che da sempre, insomma, dall'inizio della sua carriera di cineasta, ha sempre messo nel mirino la borghesia. Ecco, non fa eccezione questo film, che risulta, a differenza dei primi cortometraggi, sempre girati in Francia, dal maestro spagnolo, che erano opere più simboliche, più criptiche, anche se indubbiamente altrettanto affascinanti, qui invece nel lungometraggio, con uno stile decisamente più vicino alla prosa, uno stile più prosaico, uno stile decisamente più realistico, quasi naturalistico, da cui il grande dissidio interno, il grande contrasto, anche il grande fascino di quest'opera, non rinuncia alle sue invenzioni, insomma, più surreali e racconta del tentativo di questo gruppo di borghesi di ritrovarsi attorno a un tavolo, a pranzo, a cena, sappiamo come, insomma, il desco sia uno dei grandi riti, così, delle abitudini borghesi, dove si decidono, peraltro, un po' anche molte altre cose. Ebbene, è il tentativo, sempre frustrato, da parte di questo gruppo di borghesi, di mettersi al tavolo insieme. Ed è un film dove, progressivamente, l'aspetto onirico, l'esperienza onirica, l'ingerenza del sogno, annullano il peso della realtà, ma con delle transizioni nascoste, per cui ci ritroviamo, a un certo punto, a vivere l'esperienza onirica di uno dei personaggi del film, senza renderci conto di essere all'interno di un sogno, il quale, quando si svelerà, sarà con grande sorpresa e grande ingegno, una porta, una finestra, un lascia passare per un'altra esperienza onirica, questa sorta di scatole cinesi di sogno dentro al sogno, che rende questo film un'esperienza davvero straordinaria. Su YouTube, peraltro, si possono vedere in trasmissioni d'epoca, ancora analogiche, Rai, Il fantasma della libertà, che è un film mai uscito in un video, il penultimo film di Luis Buñuel, un'altra grande requisitoria contro i valori, i simboli, la mentalità, i costumi della borghesia, con un montaggio, una narrazione, scioltissimi, annullando di fatto il principio lineare del racconto, anche i rapporti di causa-effetto tra una scena e l'altra, facendo veramente navigare la fantasia più sfrenata, inventiva e ingegnosa tra un episodio e l'altro di questo film, e sempre su YouTube è disponibile anche Bella di Giorno, il film più conosciuto di Buñuel, il suo film più scandaloso, un'altra esperienza imperdibile. Buon cinema a tutti, anche da casa. A presto!